Il team Gresini ha svelato oggi in diretta streaming le moto che parteciperanno al Moto Mondiale 2021 in Moto2 e in Moto3. Una presentazione tipica a causa dell'assenza del fondatore e del motore della squadra Fausto Gresini, ancora ricoverato in ospedale a causa del coronavirus con un quadro clinico che continua ad essere purtroppo altalenante. Frutto anche del lavoro di Fausto Gresini, però il progetto 2021 non si è fermato e sarà i box del primo Gran Premio nei prossimi mesi con una squadra che si potrebbe definire italo-indonesiana. MP1 e Federal Oil saranno infatti i main sponsor delle due scuderie. L'Indonesian Racing Team Gresini Moto3 avrà in sella Jeremy Alcoba, Ruki 2020 e Gabriel Rodrigo. Il primo punta a confermare la crescita dello scorso anno, il secondo punta decisamente al titolo. Grazie alla collaborazione con il nuovo sponsor, il look del team è stato completamente rivoluzionato con un passaggio ad un acceso rosso-nero. Restano i dubbi sull'aerodine a mini città e sul peso della moto, problemi che hanno perseguitato la squadra lo scorso anno, ma le ambizioni di partenza sono alte. Veste rinnovata anche per il team Federal Oil Gresini in Moto2. Due nuovi capotecnici dovranno guidare la squadra al servizio di Nicola Bulega, che punta alla consacrazione ma soprattutto alla continuità nel 2021 dopo l'infortunio alla spalla, e di Fabio Di Gian Antonio che torna nel team faentino dopo la bella avventura insieme in Moto3 con ambizioni da titolo, superato il problema al ginocchio. Moto subito in pista la prossima settimana, il 24 e 25 febbraio, in attesa di iniziare il campionato il 26 marzo a Doha. Sarà un calendario purtroppo condizionato dal coronavirus con due gran premi già rinviati in Argentina e negli Stati Uniti, e nuovi circuiti. In Italia le moto saranno al Mugele il weekend del 28 maggio e a Misano il 17 settembre.